Noi siamo appena arrivate, in realtà solo di tappa, siamo solo una giornata e abbiamo fatto un giro per la cittadina ed è molto carina, si gira a piedi, la gente è molto ospitale e poi ha dei monumenti molto carini, in realtà non siamo appena entrati a visitarli, però la consiglieremo. Sì, ci sono tante viette con negozietti dove si può andare carini molto, ora dobbiamo finire il nostro giro per vederla tutta, siamo solo di passaggio, partiremo tra poco. E poi ci sono molte costruzioni di mattoni molto carine e niente, è bella da girare, il clima è perfetto, si può fare un bagno, il mare è molto bello, ci sembra sul lungomare, ci sono tanti ragazzi che fanno il bagno, quindi vi consigliamo di venire.